Ciao papà, il numero qui sotto è il mio nuovo numero, il mio vecchio cellulare è rotto, puoi mandarmi un messaggio su whatsapp? Continuano i tentativi di truffa via cellulare, sms che arrivano a dignari utenti, quasi sempre anziani, negli ultimi giorni altri casi. Le parole dei truffatori sono scelte in modo tale da colpire la pancia dei genitori o nonni inconsapevoli che per aiutare i figli rischiano di cadere facilmente nel tranello. Tutto inizia così ma l'obiettivo è arrivare a spillare soldi. Al primo messaggio infatti seguiranno richieste insolite di denaro, la ricarica di una carta prepagata, le credenziali per accedere al conto corrente. Le forze dell'ordine continuano a mettere tutto in guardia, la polizia postale consiglia di non rispondere al messaggio, di cancellare la conversazione e di non salvare il numero e se salvato eliminarlo immediatamente dalla rubrica. Spesso seguono altri messaggi, testi in cui il fantomatico figlio scrive che l'app bancaria non funziona più e che ha bisogno di aiuto urgente per pagare una bolletta. In questo modo i truffatori riescono a distorcere IBAN o altri dati personali, svuotando i conti correnti delle vittime.